Come tutti i castelli che si rispettano, anche il nostro ha il suo fantasma e le sue leggende. Una di queste sicuramente è la stanza del Trabocchetto, dove si racconta che le persone indesiderate al castello vengono accolte come se fossero degli ospiti d'onore e fatti accomodare all'interno di questa sala, dove c'è una cappella privata all'interno della quale vengono fatti accomodare con una scusa di un rito di ringraziamento.